Io tutti i giorni vengo minacciato, vengo vessato, vengo comunque a lavorare con un'ansia, specialmente quando non ci sono, perché il mio personale sono quasi tutte donne e perciò sento la responsabilità anche di difendere il mio territorio. Durante il lockdown abbiamo avuto diverse aggressioni. Purtroppo devo dire che in questo periodo di sfortunati e di persone che vivono per strada, alla merced di qualunque situazione, sono tantissimi e stanno portando il quartiere al collasso. Dopo lo sgombero di Castropretorio, di tutti i barboni e di tutti i clochard, questa gente in buona parte si è trasferita tutta quanta sotto i portici con le conseguenze che potete immaginare sia dal punto di vista igienico-sanitario e sia dal punto di vista pandemico. Escrementi, incendio di cassonetti, li hanno occupato il tendone. È stato fatto un esposto da un avvocato che si è presa in carico di rapportare singolarmente anche gli episodi che sono successi, dalla violenza carnale anche a tante condizioni di pericolo per la cittadinanza. Perciò adesso sembra che qualche cosa si muova e io voglio sperare che non si muova solo per Piazza Vittorio ma che sia una situazione che possa in maniera generalizzata aiutare chi ha bisogno, ma chi ha bisogno non è soltanto il clochard perché bisogna capire che durante questa fase abbiamo mischiato e liberalizzato a fare quello che vogliono anche criminali, tossici e squilibrati che non hanno nessun tipo di controllo in quanto non è previsto nessun piano per il recupero di queste persone.